Siamo con Manfred Murgh che purtroppo è appena uscito qua a Craninsca Gora, allora Manfred come stai prima di tutto? Mi spiace per la caduta, sono contento che non mi sono fatto niente perché ho preso una bella tega, mi gira un po' la testa ma tutto bene, mi spiace un po', la strada si fa sempre più salita in gigante ma non mollo e adesso guarderemo al prossimo anno di ritornare e fare un bel lavoro d'estate e poi vediamo. Domani comunque c'è uno slalom che comunque è una pista che ti piace questa, in passato hai già vinto quindi ci sono buone prospettive, com'è la neve innanzitutto? La pista è fantastica, penso al prossimo anno in gigante volevo dire ma chiaramente in slalom c'è ancora tanto da giocarsi, posso giocarmi le finali, però penso a sciar bene domani perché in allenamento sto andando forte e per quello spero è una gran gara. Allora in bocca al lupo per domani. Grazie, ciao, grazie.